ma posso farti l'inviato del tg regionale cioè che faccio le domande che non sono delle domande viareggio la città del carnevale ma ora per la prima volta anche della dj 10 andiamo a scoprire i loro ospiti nicola savino una bellissima giornata di sport e musica al ritmo di radio di 6 se una bellissima serata come c'è giornata come ce ne sono state tante e qual è la domanda lo sport la musica insieme al pubblico di viareggio per un bellissimo pomeriggio mattina e pomeriggio insieme questo è i successi di radio dj le voci amate di radio dicei a fare da cornice ad una manifestazione che finalmente arriva a viareggio tu ridi ma a me sta roba qua mi succede continuamente capito un evento amatissimo sì ciao a tutti grazie di venire numerosi ecco mi state prende in giro dai che devo fare neanche le domande quello ride guarda evento di musica e amicizia sì 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 infatti è musica e amicizia e corsa anche insomma una bellissima giornata di musica una bellissima occasione quello che è la salute lo stare bene ma soprattutto la musica che unisce la musica da sempre unisce lo sport fa stare bene quello che è è un po' luciano spalletti quelle che sono quelle che sono le ridice i tan iscriviti al nostro canale Grazie a tutti.